Ciao a tutti, un saluto allo staff di Fanny Moon e sono contentissimo di essere ospite qui, il mio nome è Stefan Ascolta mi amore, l'amore dei freddi, in questo mondo Nessuno ci aspetta, alzati a voi e quasi se portiamo avanti la nostra bandiera, stringe il cuore, spingiamo l'amore, allora adesso Bentornati, eccoci qui all'Anglo del Provinante, anche questa settimana nuova settimana, nuovissimo Provinante, eccolo qui, Stefano, nome d'arte Stefano L'amberto De Simone Pensavo Stefano, io addirittura Stefano, secondo nome, poi c'è tutto un discorso Siamo artisti, quindi Stefano, raccontaci di te Chi sei, che fai, canti, balli, scrivi Allora, io ho cominciato a scrivere canzoni da 3-4 anni a questa parte Inizialmente cantavo e basta Ho partecipato all'Accademia Sanremo, molte volte, al Festival di Castrocaro Comunque diciamo che ho un curriculum Il Festival di Castrocaro? Sì Cioè io ho sempre avuto paura del Festival di Castrocaro Eh sì Voci bianche Lo sai qual è che il nome comunque sia Sì Immette un po' di timore Esatto, timorisce un pochino E niente, così sono contentissimo per me venire ospitato In seguito a una mia richiesta Sì, abbiamo saputo, sì A proposito, visto che l'hai detto Io mi aggancio subito e dico Se siete artisti, cantanti, ballerini e maghi, artisti Emergenti Emergenti, per farvi conoscervi Noi vediamo una mano Vi faremo conoscere tutta la divisione del Lazio Siamo qui su Super 3 Contattateci immediatamente sul sito che è 333 333 No, il sito numero di telefono che è 333 8693 8693 E il sito è www.funnymoon.it Non sarà un episodio del solo processo Rinascerà, non c'è mai vita o niente Siamo animata alla gente Zegari delle città Rinascerà, il sole ci narrà Si nascerà nel cielo La prima stella sarà Quindi se hai visto, ho visto cantare e hai cantato Non sia un tipo da cover Hai fatto Una canzone mia Il cui titolo è Ascoltami amore Che poi questa canzone ha una storia un po' particolare dietro Perché la Ma è vera? Si, si è verissima Questa l'ho composta per la nascita di mio nipote Naspita E si chiama? Tiago Come? Come il santo San Tiago Ah, per Bernabeu Se cresce il cacciatore Se no va bene così Ma io me lo auguro A meno così Magari mi attacco a lui Mi porta con il suo successo Bravo, lui tanto scrive Però poi se quello palleggia E vabbè, giustamente Chi arriva prima porta con sé chi sta dietro Lo zieto, lo zieto Lo zieto E niente Ah, dimenticavo Volevo appunto promuovere il mio sito www.lambertoresimone.com Dove potete trovare questa canzone Con la quale mi sono poi esibito E anche tutte le altre Ma si può scaricare? Si, si, si può scaricare È regolare, si può? Si, si, si può scaricare Ovviamente, certo Retribuida Quanto o meno Se volete la demo No, la demo è gratis Tutte le demo Vabbè, l'antipasto L'antipasto è offerto dalla casa Il primo avrò va pagato Ok, Stefano Veramente Io ho visto Sei bravo Sei giovane Quanti anni hai? 19 19 Una ceppo Un giovanotto Io ti auguro tanta fortuna Sei sicuro Che grazie a Fanny Moon Fai così Vai, fai così Su Via Subito Via Ho caschi sotto la finestra Come noi Io spero la prima opzione Vai, tutto No, io te l'auguro bene Te l'auguro bene Bene, è tutto per l'angolo del Provinante Se anche voi volete contattarci Fanny Moon.it O l'uomo del telefono 33 33 86 93 Sempre su Fanny Moon.it Capisci Capisci Capisci, yeah Sing a song Bye bye Arrivederci Al prossimo tre pizzi Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti